Uno dei motivi perché non diventi ricco, non diventi famoso, uno dei motivi perché non vinci, uno dei motivi perché ti senti sfigato, uno dei motivi perché la vita non va come tu desideri e vuoi. Lo sai qual è? È assurdo quello che ti dico, ma è una grande realtà. Sono gli idoli, gli idoli. Il mio idolo, Ronaldo, Messi, quel cantante, Madonna, quell'altro, quell'altro, la Juventus. Bravi! Le persone che hanno degli idoli perdono energia a non finire. Perché mentalmente ha un senso, ma a livello cellulare, a livello proprio energetico, avere degli idoli significa portare amore non verso se stessi, ma verso un prossimo che molto spesso non conoscerai mai nella tua vita. Perché i potenti vogliono che tu hai degli idoli? Perché ti indeboliscono. Perché i potenti fanno in modo di creare sempre idoli? Perché ti indebolisci. Non ho mai conosciuto una grande persona, ho conosciuto di grandi campioni che avessero degli idoli. E l'idolo numero uno di Cristiano Ronaldo sai chi è? Cristiano Ronaldo. E ha ragione. Ha ragione sì. Il mio idolo sai chi è? Io, quando mi guardo allo specchio la mattina, sono io l'idolo di me stesso. Perché io devo ringraziare il mio sangue, il mio DNA, la mia anima, i miei avi. Sono una meraviglia e mi do un casino di forza, mi do un casino di energia. Allora quello che voglio dire è finite di inseguire degli idoli e prendetevi le vostre responsabilità. Incominciate ad amare il vostro tempio con grande consapevolezza, con grande centralità, con grande umiltà. Cercate di far tirare fuori i vostri talenti. Quelli che voi chiamate idoli potrebbero essere di buoni esempi. Quindi può essere un buon esempio, può essere un buon esempio, ma in realtà quando tu torni a casa, quando tu dormi alla notte, tu dormi con te stesso, dormi con il tuo cuore, con il tuo sistema cellulare, dormi con la tua energia, pertanto è te che ti devi premiare. Moltissime persone che hanno idoli sono deboli, sono fragili, non hanno autostima. Tu devi essere l'idolo di te stesso e se qualcuno ti dice che non è così, sappi che quel qualcuno non vuole il tuo bene. Io ritengo che l'idolo di te che stai guardando il mio video sei tu, sei tu. Magari puoi prendere il meglio d'Alberto, ma ti devi amare perché non hai idea per il tuo sistema cellulare, per il tuo sangue, per il tuo DNA, per il tuo cuore, per i tuoi intestini, per la tua energia, per il tuo sguardo dire io come idolo a me stesso, devo imparare, devo nutrirmi, devo crescere, devo valorizzarmi. Sì, ma sono io il centro del mio mondo, il mondo vive dentro di me. Pertanto ami l'universo che c'è in te e ami l'universo che c'è al di fuori di te. Ma i potenti che cosa vogliono? Che tu ami l'universo che c'è al di fuori di te e se tu ami l'universo che c'è al di fuori di te ti indebolisci, ti indebolisci un casino perché porti la tua energia al di fuori. No, 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 caro mio, la tua energia è sacra e deve essere dentro di te. Quindi io amo me stesso e di riflesso. Alberto, sì, ti riconosco. Sei un grande uomo, Alberto. Good, buono. Mi piace quello che dici. È un buon esempio. Mi dà forza. Buono. Questa è la strada giusta. Allora finitela di avere degli idoli. Ve lo dico veramente di cuore. Ve lo dico veramente di conoscenza e di consapevolezza. Imparate a diventare voi i capitani della vostra anima perché sprecate un'infinità di energia, ma non solo. Perdete anche denaro. Perdete anche business perché tutta l'energia, la potenza che avete nella mente la state buttando fuori per la strada come vomitare soldi. È come una persona che mette 10.000 euro e li lascia sul marciapiede. Ma sei impazzito? No, non farlo. Ama te stesso. Ama il tuo sistema cellulare. Riconosciti. Iniziando dai tuoi avi, iniziando dai tuoi genitori, passando per te e poi quando vendi una grande persona dice mi piace. E quando fai magari una foto con un personaggio famoso, fai una foto, ma sentiti importante, fagli capire che tu vali. E questo dice, e questo chi cavolo è? Una volta ero con Toldo e con Figo, Luis Figo, pallone d'oro, e mi ricordo che chiedevo una penna a Figo. Gli dicevo, scusi Luis, hai una penna per favore? E quando Luis Figo mi diede la sua penna per scrivere, mi dice, dove ti faccio l'autografo? Io ho guardato Luis Figo e davanti a Toldo, mi ricordo ero l'Otel Melià a Milano, Toldo fa, mamma mia, adesso questo cosa gli dice? Dico, no, scusa, Luis, mi serve la penna perché devo scrivere dei numeri per Francesco, non per l'autografo. E mi guarda e mi dice, sì, certo. Fa, non ho bisogno del tuo autografo, non mi interessa. E ci è rimasto male. E quell'altro ha detto, questo è fuori. E invece avevo ragione, perché sì, puoi farmi un autografo, ma quello che conta è qui. Sono io, cazzo. Io vivo per me, mica per lui. Dopo posso anche farmi l'autografo, ma chi se ne frega. Io sono importante. Faccio l'autografo di me stesso. Comincia a farti l'autografo. L'Indiano John mi diceva, fatti l'autografo, scrivi il tuo nome, lascia il tuo segno. Cazzo, questa è conoscenza, ragazzi, dai. Questa è motivazione. E questo lavora sul tuo sistema cellulare. Questo lavora sulla tua energia. E questo video è oro, ma non fa comodo a chi? Alla Juventus, al Milan, all'Inter, alla Roma, a tutte quelle squadre, a quel business che vogliono gli idoli per muovere il business, ma per portare energia fuori. Invece no, l'energia mia è sacra. Mi, son sacro. Te ga capio o no? Diventa l'idolo di te stesso, la tua anima che mi sta ascoltando. Dice, wow, questo è grande, cazzo, mi sta dando valore. Eh certo, te lo meriti. Perché è giusto così. Ciao.